Il consumo di energia elettrica di un personal computer in funzione della tecnologia impiegata e delle condizioni di funzionamento dello stesso. Ad esempio un personal computer da tavolo con tutte le sue periferiche in una condizione normale di lavoro consuma circa 200 watt l'ora. Se immaginiamo un impiego di 8 ore lavorative ecco che il consumo in un'intera giornata è di circa 1,5 kilowatt ore. Le condizioni di funzionamento sono importanti, più ci sono periferiche accese oppure applicazioni attive più si consuma energia perché il microprocessore lavora più intensamente e quindi ha necessità di essere raffreddato da una ventola. Quando si parla di risparmio energetico è importante notare che ci sono tecnologie come i portabili e ancor di più i tablet che spendono pochissima energia per il loro consumo. Diciamo che comparato al personal computer standard si riduce anche del 75% questo consumo.